Oh no! Cos'era quello? Niente, andiamo a vedere la camera da letto. No, ho decisamente sentito qualcosa. È solo la cesta fantasma, mia cara. Fantasma che? Fantasma niente! Forza, andiamo a vedere il solarium. Questo è il solarium. Qui c'è la stanza e lì c'è il sole. Io credo proprio di aver sentito qualcosa di là. Sono d'accordo. Invece no, visto, non c'è niente. La prego ora di visitare il bagno in stile coloniale. Oh, è molto bello. Ok, andiamocene tramite questa finestra tradizionale molto originale. Ma siamo al secondo piano ora. Cerchi di non rovinare il curatissimo giardino. Io non salterò giù da una finestra. Cos'è che continua a fare questo suono? Cesta fantasma! Janet! La cesta fantasma fa parte della casa. E l'avviso, mia cara, che non le piacciono per niente i giovani. Yugo. Senta, è la verità. Nella casa c'è una cesta fantasma. Mi dispiace, avrei dovuto dirglielo prima. È che io volevo proprio vendere questa casa. Bugiado bugiardello, il naso diventa un ramosello. Facciamola finita una volta per tutte. Oh, no! Oh! Ecco la sua cesta fantasma. Oh, salve, cara. Oh, Rita, ma cosa hai fatto? Aspetti un attimo. È lei la cesta fantasma? Sì. Sono sei settimane che cerco di vendere questa casa, ma ogni singolo compratore è stato spaventato dalla cesta fantasma ed è sempre stata lei a spaventarli. Oh, Rita, cara, come hai potuto? È stata una sua idea, non è vero? Vogliamo darceli da qui, per la nostra casa! Ok, la prendo. Davvero? Sì? No! Faccia uscire quelle nonnette e avremo un accordo.